Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di mercati finanziari, scenari e nuovi trend e ne parliamo con Roberto Russo, amministratore delegato di Assiteca Sim e con Michele Cicoria di Etenea. Benvenuti. Grazie. Grazie a tutti. Mercati finanziari che stanno andando molto bene da diversi mesi, praticamente tutto il 2019 che hanno avuto una ripresa forte e stanno continuando a mantenere questo trend positivo anche per il fatto, soprattutto per la politica espansiva delle banche centrali che sono tra le altre anche in accordo, quindi si muovono esattamente uguali la Fed e la Banca Centrale Europea che hanno immesso molta liquidità sui mercati e questo naturalmente ha favorito questo trend positivo. Vediamo quali sono le aspettative con dei mercati che stanno andando in questo modo e se effettivamente, visto che poi si pensa anche, c'è sempre il problema che magari ci possa essere una recessione, non si sa quando e come, vediamo quali sono le aspettative. Roberto Russo. Sì, direi come lei ha giustamente osservato che i mercati hanno vissuto un 2019, direi, agli antipodi rispetto a ciò che abbiamo vissuto nell'ultimo trimestre, nell'ultimo semestre del 2018, ovvero tutte le asset class si sono, direi, correlate negativamente, o meglio positivamente con un trend negativo a fine anno scorso e positivamente con un trend positivo quest'anno, quindi stiamo vivendo un'annata molto, molto positiva sia nell'ambito del settore azionario, dove abbiamo le principali borse con rendimenti a doppia cifra, talvolta anche sopra il 20% da inizio anno, ma la grande sorpresa è stata sull'asset class obbligazionaria, perché le politiche, come lei ha suggerito, ultraespansive delle principali banche centrali mondiali hanno portato a un abbassamento dei tassi interessi su tutte le scadenze lungo la curva a livello, direi, globale e quindi oggi siamo arrivati a una situazione quasi paradossale in cui più della metà delle emissioni mondiali investment grade sono con un rendimento negativo, hanno un rendimento negativo. Questo rende molto, diciamo, difficile, tra virgolette, l'investimento in prospettiva su questa asset class, perché fino ad oggi, da inizio anno, si sono ottenuti degli importanti risultati. Il problema che ci poniamo noi dell'industria, del settore, è proprio quello di guardare da oggi al futuro. Dal lato azionario magari i timori sono quelli, come lei ha sottolineato, prima o poi arriverà o no una recessione e dal lato azionario notiamo una distinzione, dovendo fare un'analisi macroeconomica, cioè gli indicatori di fiducia, che sono quelli che prevalentemente gli operatori guardano, stanno vivendo in questo momento un doppio binario. Da un lato ci sono gli indicatori di fiducia delle imprese che stanno rivelando dei risultati negativi, a livello europeo ma anche americano, guardiamo i due mercati principali, ma dall'altro lato ci sono degli indicatori di fiducia al lato famiglie e consumi che invece sono decisamente positivi. Abbiamo l'occupazione ai minimi storici, se guardiamo in America, ma guardiamo anche dati italiani ad esempio, i dati sull'occupazione sono dati confortanti guardando il trend rispetto agli ultimi dieci anni e quindi logicamente le famiglie e i consumatori stanno investendo e stanno consumando al punto tale che questi indicatori presentano dei dati positivi. Dal lato imprese l'effetto psicologico è dettato proprio da quello che è un po' il tema che sta generando volatilità sui mercati e quello della guerra commerciale che ha scatenato Trump sia con la Cina ma adesso da qualche settimana anche con l'Europa, quindi la situazione è difficile da seguire e quindi occorre sicuramente impostare delle strategie di investimento che siano fondamentalmente difensive pur necessariamente dovendo essere strategie che prevedano l'investimento in questi asset class. Quindi possiamo dire una guerra commerciale che sta minando un po' la fiducia in generale? Beh, più che altro ovviamente io non posso che essere d'accordo con l'overview che ha dato il dottor Russo anche perché la bellezza dei dati macro è che sono abbastanza settici, cioè sono lì, non si possono leggere in maniera diversa soltanto forse la politica riesce a tirar fuori il litigio dei dati macroeconomici perché chiaramente c'è l'interesse dell'urna che purtroppo viene messo sempre davanti a tutto il resto mentre per quanto riguarda gli operatori finanziari ovviamente un dato positivo di PIL va letto positivamente un dato in contrazione o negativo di PIL non può essere letto se non negativamente quindi in questo la pulizia di elementi di valutazione che dà un dato macro è incontrovertibile quantomeno quando si parla di operatori finanziari. Ecco appunto subentrare però il vero distorsore, cioè dove andrà poi il mercato ovvero il risultato che poi riusciamo a restituire gli investitori non è frutto soltanto di quelli che sono le evidenze macroeconomiche ma quelli che sono i disturbi derivanti dalla politica e la trade war è forse quella di maggior impatto globale perché di fatto riesce a modificare nel brevissimo termine, quasi nell'intraday la direzionalità che hanno sia i rischi asset che magari anche mercati tradizionalmente meno volatili come l'obbligazionario che in realtà poi abbiamo scoperto non essere più così ecco. Quindi noi partiamo da lì per andare ad aggiungere già un importante set di informazioni che Tenea ha perché è una società macro-driven e quindi è evidente che la situazione dell'economia mondiale, del commercio sia interno, quindi consumi, che l'export è un dato di partenza fondamentale da osservare però tutti gli elementi di distorsione o di alterazione di quelli che possono essere gli umori degli operatori che poi nei flussi vanno a riversare le proprie convinzioni è fondamentale c'è ad esempio un'analisi che viene condotta dall'Università di Cambridge che misura proprio il sentiment dell'incertezza tra gli investitori e tra gli opinion leader e i fruitori ad esempio dei media piuttosto che dei social media quindi c'è questo grafico, magari invito i vostri ascoltatori a cercarlo perché è un indice di incertezza politica fatta dall'Università di Cambridge che detta proprio gli elementi di maggiore criticità e i momenti di maggior nevosidismo sui mercati coincidenti con un rialzo di questo grafico e l'abbiamo già visto verificarsi durante il post-crisi finanziaria globale durante le prime reazioni a caldo della Brexit nelle prime settimane successive alle elezioni di Trump e adesso questo grafico è sui livelli massimi quindi da un lato ci serve capire come viene percepito dall'investitore sia dal micro che a livello macro l'incertezza politica e dall'altro chiaramente il set macroeconomico è fondamentale e da qui in avanti ci sono più punti interrogativi che punti esclamativi questo è evidente questa situazione di punti interrogativi il mercato che cosa sta chiedendo? come si sta muovendo? il mercato sul fronte azionario stiamo notando che sta vivendo un anno molto positivo e negli ultimi 3-4 mesi ha vissuto un paio di fasi di volatilità che sono state però repentinamente recuperate quindi questo però dipende più da fattori di natura geopolitica che da fattori di natura microeconomica se dobbiamo pensare al micro come i dati aziendali perché le ultime trimestrali sia negli Stati Uniti che in Europa sono state comunque delle trimestrali positive migliori delle attese anche se non di numeri così eclatanti però comunque confermano un dato di crescita delle aziende allo stesso tempo fattori geopolitici guardiamo cosa sta succedendo con Boris Johnson su Brexit grande incertezza e devo dire confusione politica guardiamo cosa è successo in Italia ad agosto c'è stato un rovescio della compagine governativa che forse nessuno avrebbe immaginato guardiamo cosa succede in Germania dove c'è una debolezza macroeconomica e comunque c'è oramai la Merkel che si sta preparando alla sua successione per cui direi che ci sono stati dei sentori di volatilità che giustificano anche un andamento del grafico di cui parlavamo qualche minuto fa cioè il mercato è intimorito che prima o poi possa succedere qualcosa dall'altro lato è vero che le politiche ultraespansive delle banche centrali e uno stato di fondo dell'economia ancora positivo non giustificano probabilmente un crollo o una recessione che negli Stati Uniti è stimate intorno al 30% quindi c'è una crescita delle stime ma più che altro è dettata anche da ragioni di calcolo di probabilità cioè stiamo vivendo un trend di lungo periodo così clamorosamente ampio che giustamente solo basandosi sulla legge dei grandi numeri è chiaro che aumentano coloro i quali iniziano a prevedere che prima o poi ci possa essere una recessione le strategie da mettere in piedi in questo caso sono strategie almeno nel nostro caso noi sul lato azionario stiamo suggerendo l'investimento in holding di partecipazione cioè stiamo aumentando il peso all'interno dei portafogli azionari di alcune holding di partecipazione faccio un esempio Berkshire Hathaway di Warren Buffett ma faccio anche un esempio italiano la Tamburi Investment Partners che ci piace molto come azienda perché riteniamo innanzitutto che queste aziende siano caratterizzate un po' da una filosofia di investimento che è la nostra, il value investing che sposiamo quindi anche dal punto di vista filosofico dall'altro lato sono aziende a nostro parere sottovalutate in borsa rispetto al loro valore intrinseco e che investono in una serie di aziende a loro volta tipicamente industriali tipicamente con elevate barriere all'ingresso e con dei multipli favorevoli nonostante i grossi rialzi di borsa di numerose aziende e quindi questo risulta essere una strategia piuttosto conservativa perché in caso di volatilità quindi di caduta dei corsi borsistici la volatilità e l'oscillazione di queste aziende avendo esse stesse un portafoglio di aziende all'interno dei loro asset sicuramente è molto contenuta dal lato obbligazionario stiamo cercando delle soluzioni alternative abbiamo creato una linea gestione tesoreria che prevede l'investimento per la metà della linea in time deposit quindi in conti correnti remunerati senza vincoli di detenzione esente dalla normativa sul bail-in sappiamo tutti che un altro degli aspetti di grande sensibilità sui conti correnti è quello che sopra 100 mila euro c'è il rischio di perdere tutte le somme in caso di default della banca depositaria la normativa sul bail-in la DBRR prevede che qualora queste somme siano investite per il tramite di un intermediario vigilato Banca d'Italia Consob come una sim tutte le somme a sopra 100 mila euro investite quindi anche in time deposit ma per il tramite di una sim non sono soggette alla normativa sul bail-in quindi per metà la linea investita in time deposit per metà in titoli tipicamente investment grade a basso bassa duration quindi molto molto poco volatili per far sì che una qualsiasi azienda abbia problemi di eccesso di liquidità piuttosto che investirli in banca dove fra poco sarà scoraggiata per ovvi motivi l'investimento in liquidità perché la BCE oramai penalizza lo 0,50 le detenzioni delle banche in liquidità presso la BCE questa è una soluzione che riteniamo contingente molto favorevole che permette un parcheggio della liquidità senza rischio bail-in E con questa strategia suggerisce ulteriori modifiche orientamenti? Noi non ci occupiamo di gestione del mercato monetario abbiamo sia come storicità dell'azienda che per tipologia degli strumenti di un respiro un po' più ampio quindi la valutazione della nostra gamma parte dal medio termine quindi quello che noi cerchiamo di dare in prima battuta è un'alternativa ad altissima diversificazione e qualità al cliente che o fai da te o perché non ne ha più diciamo negli strumenti tradizionali lavorava prima con l'amministrato quindi tipica acquisto e scadenza Si sposta dalle obbligazioni alle azioni? No, non necessariamente ecco l'unica cosa che diverge nella nostra lettura del 2019 che ha fatto poc'anzi il collega e che non è stata per noi una sorpresa la ripartenza del mercato obbligazionario e la importante plusvalenza che si poteva ottenere in conto capitale è una cosa che noi avevamo assolutamente stimato anche perché attestandoci come ho anche detto in una precedente puntata qui ospite da voi avendo preferito per quasi la totalità dei nostri asset emittenti investment grade andavamo a lavorare in una logica di 18 mesi come orizzonte di osservazione quindi il 31-12-2018 per noi non era una data di scadenza diciamo urgente ma era inserita in una visione di più ampio rispiro dell'andamento del mercato obbligazionario perché appunto altro elemento appunto incontrovertibile è che le banche centrali sono ritornate o stanno rallentando sono tornate a fare easing piuttosto che stanno rallentando nella loro iniziativa di drenaggio di liquidità quindi questo non fa altro che aumentare la domanda anche in alcuni momenti in maniera molto repentina e molto robusta di obbligazioni a tasso positivo noi in questa abbondanza di rendimenti prospettici preferiamo accontentarci di quello che sarà l'apprezzamento in conto capitale dei governativi ad altissimo rating perché non è assolutamente escluso che un decennale americano non possa andare all'1% di rendimento quindi dall'attuale 1,50 andare all'1% esporsi sulla duration porta importanti performance potenziali e quindi nell'estrema difficoltà ad andare a investire il denaro dei nostri investitori nel brevissimo termine i conti correnti oggi all'infuori dei nostri confini nazionali hanno rendimento negativo Unicredit nel suo amministratore delegato qualche giorno fa ha dichiarato di valutare la possibilità di applicare dei costi di appunto parcheggio di cash nei conti correnti dei propri correntisti ovviamente rispettando quella soglia che nel caso del bail-in è 100.000 quindi la totalità dei depositi ma in questo caso guarda più a non aggredire il segmento diciamo family o comunque estremamente retail perché è una problematica per tutte le banche quella di gestire la liquidità e quindi questo lo è tanto quanto nei fondi di investimento che devono garantire di avere a che fare con controparti di altissima solvibilità e dal momento in cui noi dobbiamo garantire qualità dei sottostanti ma anche performance nel medio termine per noi spostare come duration il posizionamento obbligazionario ci sembra la soluzione più sensata non fosse altro che fino ad oggi ci ha dato ragione e le politiche di banche centrali dovrebbero continuare a darcene nei mesi a venire sul mercato azionario non entriamo più di tanto nella logica dello stock picking noi siamo storicamente dei market timer quindi preferiamo lavorare sul beta questo perché effettivamente aziende di eccellenti qualità anche menzionate in questa occasione possono sul lungo termine chiaramente portare profittabilità ma nel breve subiscono il beta tanto quanto anche le aziende meno a sconto o dove c'è meno qualità quindi noi è su quello che vogliamo lavorare per evitare di distruggere valore o per trasferire al cliente una volatilità del portafoglio nel suo complesso che nel breve termine nel medio termine mal digerirebbe quindi lì subentra una logica commerciale che è sempre quella di alzare gli occhi al cliente che magari non tutti i suoi averi ha destinato a lungo termine qualche cosa vuole vedere che dia un risultato quantomeno venga preservato sul medio termine perché era abituato al BTP tanto per banalizzare il ragionamento quindi traghettare il risparmiatore italiano mantenendo fede al suo profilo di rischio significa mantenersi ragionevolmente sul medio termine di investimento capital preservation e performance quel tanto che basta da non snaturare il suo profilo di rischio perché magari spingere troppo sull'acceleratore può dare nell'immediato dei ritorni interessanti ma magari possono anche venire momenti in cui si soffre parecchio e questo disturberebbe anche la relazione con l'investitore noi preferiamo un po' come la logica del colesterolo c'è il colesterolo buono e quello cattivo cerchiamo nel mercato quello che fa bene quindi comunque in un periodo così di tassi veramente molto bassi si riescono ad ottenere dei rendimenti abbastanza elevati direi forse c'è stato un equivoco nella mia precedente affermazione io mi ponevo proprio il problema a dire da oggi in poi dove si va sul mercato obbligazionario proprio perché è stato cavalcato e devo dire anche da parte nostra il vantaggio di poter usufruire di faccio proprio l'esempio dei BTP quest'anno c'è stato un clamoroso divario tra il rendimento dei BTP rispetto agli altri periferici europei che si è stretto considerevolmente nel mese di agosto ne abbiamo beneficiato nei portafogli dei clienti ma il problema che noi ci poniamo è da oggi in poi dove si va a investire in questo devo dire di sentire leggermente sulla strategia nostra nel mercato obbligazionario rispetto al collega in che senso siamo del parere che sul mercato americano una delle possibilità di andare a ricercare il rendimento delle poche possibilità per andare a ricercare il rendimento data la curva dei tassi decisamente più favorevole negli Stati Uniti rispetto all'Europa è proprio quella del treasury americano perché innanzitutto parliamo di un paese che ha una crescita economica decisamente migliore della nostra abbiamo anche il discorso che le politiche l'Europa cresce probabilmente la probabilità che la banca centrale europea possa alzare i tassi prima della banca centrale americana sono abbastanza basse dato il peggior stato di salute medio dell'Europa rispetto agli Stati Uniti quindi la probabilità che il dollaro possa proseguire nel trend di apprezzamento rispetto all'Euro favorisce un investimento nella valuta americana però va anche oggettivamente detto che venendo da un mondo di oramai è cambiato un po' il paradigma cioè i tassi hanno raggiunto dei livelli medi bassi che forse non abbiamo mai visto negli ultimi 80 anni ci dobbiamo preoccupare del worst case cioè qualora ci fosse un'inversione di tendenza nei tassi di interesse essere investiti nel medio-lungo termine nella fascia lunga della curva ti porta delle perdite in conto capitale importante un punto su un decennale vuol dire 10 punti in conto capitale essendo la curva americana piuttosto piatta per cui anche il rendimento a due anni è un rendimento molto appetibile dovendo scegliere dove posizionarsi sul mercato americano noi preferiamo al limite scegliere comunque una duration molto breve questo perché in caso negativo guardiamo il caso negativo per non preoccuparci del caso positivo perché in quel caso gli investitori non avrebbero alcuna preoccupazione ecco in un caso di uno scenario diverso chiaramente essere investiti in una fascia su una curva a lungo importerebbe le maggiori perdite in conto capitale quindi in un'ottica magari più di trading perché ci preoccupiamo anche del cambio euro-dollaro che viene da un trend decisamente di rafforzamento del dollaro rispetto all'euro giustificato e giusto sappiamo benissimo che però i mercati quando nelle fasi di volatilità perdono la razionalità quindi la strategia deve essere necessariamente difensiva e per noi difensiva vuol dire investire sul duration court però ci sono anche dei settori particolari in cui probabilmente si vede uno sviluppo positivo rispetto ad altri allora se partiamo di mercato obbligazionario io direi che una giusta combinazione fra aziende d'alto merito creditizio indipendentemente dalla dipendenza o meno dal ciclo economico e tasso governativo anche attraverso i future è una giusta combinazione diciamo dal nostro punto di vista strategica poi se guardiamo sul mondo azionario qui possiamo fare sicuramente delle ulteriori diciamo argomentazioni laddove si può andare a generare ritorni perché ad esempio per quanto riguarda la nostra selezione azionaria quindi mi riporto sull'argomentazione in ottica ai rischi asset per autonomasia quindi mercato azionario a quel punto si può cominciare a considerare o a riprendere in considerazione una lettura più value del sottostante azionario stante comunque che tutto può disturbare il beta quindi le borse possono andare male o bene perché semplicemente il 10 cominciano di nuovo a litigare Trump e Xi Jinping e quindi tutto quello che possiamo dire adesso finisce o lo posticipiamo di qualche settimana oppure finisce direttamente nel cestino però stante fino ad oggi il comportamento dei flussi delle preferenze degli investitori è stata più una lettura growth quella che ha spadroneggiato da 24 mesi a questa parte nei portafogli azionari oggi il value può recuperare non fosse altro perché almeno storicamente quindi ritorniamo sull'aspetto probabilistico è quello che meglio si comporta in una logica difensiva laddove il ciclo economico comincia a soffrire o addirittura va a poter scendere in una fase recessiva quindi possiamo concludere dicendo che tutto dipende molto da questa guerra commerciale tra Trump e il resto del mondo praticamente ma diciamo che Trump ha un obiettivo che è novembre 2020 che le nuove elezioni le sue potenziali rielezioni quindi il suo interesse di portare i mercati americani ai massimi fino almeno a quel periodo in cui lo dovrà essere eletto perché sappiamo che fa molto leva sullo stato di salute degli Stati Uniti quindi è probabile che continuerà con questa politica dei dazzi ma come si suol dire di carota e bastone quindi un po' tira la botta alla Cina piuttosto che all'Europa dopo un po' fa il tweet spesso di venerdì sera e si rimangia le parole è chiaro che siamo in una situazione particolare però non dobbiamo dimenticare questo diciamo è la cosa ci dà conforto che siamo in uno stato di crescita globale media a livello proprio globale a macchia d'olio come forse non la vedevamo da tanti e tanti anni perché non ci sono dei focolai di particolare crisi che invece abbiamo vissuto nelle crisi economiche precedenti il debiti sovrani in Europa Lehman Brothers abbiamo vissuto i mercati emergenti quindi oggi c'è una situazione di fondo di tranquillità è chiaro che gli eventi geopolitici stiano turbando possano turbare i mercati nel futuro però tutto sommato non dobbiamo assolutamente prescindere da quello che è lo scenario macro di fondo che è uno scenario che ancora dà conforto e che quindi favorisce probabilmente il proseguo chiaramente con dei necessari shock di breve termine un proseguo di un trend magari più composto ma di crescita a livello di borse è un po' più difficile e quindi più selezione e più strategie difensive a livello obbligazionale bene siamo arrivati al termine della nostra puntata ringrazio Roberto Russo amministratore delegato di Assite Casim e Michele Cicoria di Etenea e arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle fonti tv grazie grazie a voi grazie a tutti